domanda da mille e una notte le donne col seno più grosso sono meno intelligenti come dice la leggenda qualche ricercatore si è messo a fare ricerca su questa cosa effettivamente che sembra parecchio leggera e lo è ci fu una ricerca vecchia che non fu mai approvata perché il paradigma scientifico non era affatto solido che diceva che c'era una correlazione inversa donne col seno abbondante quindi dalla quarta in sua avevano un quoziente intellettivo minore rispetto alle altre ma non fu mai approvata salta fuori una ricerca modernissima di qualche anno fa che dice proprio l'inverso le donne col seno più grosso sono più intelligenti vado ad indagare ed è una bufala però citata da molti giornali che non hanno controllato è una bufala creata ad arte da un supermercato americano promette per farsi pubblicità che si è inventato tutto quello che invece sappiamo delle donne col seno abbondante e che viene confermato alla ricerca sono cinque cose primo le donne col seno più grosso spendono più soldi e non solo di reggiseno sembrerebbe che abbiano più le donne col seno più abbondante abbiano più soldi da spendere probabilmente è vero che le donne che hanno più soldi possono permettersi di fare chirurgia plastica additiva e quindi avere seni più abbondanti due le donne con tanto seno possono avere meno autostima la cosa sembrerebbe derivare dal fatto che molto seno porta problemi fisici quali dolore alla schiena dolore al collo dopo una certa età e un certo modo di essere visti dalla gente visto queste leggende di scarsa intelligenza l'esclusione di alcuni tipi di attività sportiva o attività artistica come potrebbe essere il balletto eccetera terzo punto le donne con più seno tendono a trovare più facilmente uomini che vogliono diventare padri attenti non migliori padri ma semplicemente che desiderano maggiormente la paternità quarto punto le donne con più seno bevono meno caffè la cosa va spiegata bene in verità uno studio anche molto accurato ha trovato che esiste una correlazione fra un certo tipo di genotipo con una sigla molto complessa comunque cito tutto alla fine del video l'assenza di uso di anticoncezionali ormonali e l'ingestione cioè l'assunzione di caffeina cioè questo tipo di donne che hanno questo genotipo che non assumono anticoncezionali e che bevono caffè hanno in effetti un restringimento delle mammelle non è assurdo però hanno le mammelle più piccole quarto punto le donne col seno rifatto a distanza di dieci anni dall'operazione hanno un tasso di suicidio più elevato della media questa cosa non me la sono inventata io è uscita su una rivista scientifica di chirurgia plastica questo è quanto riguardo il seno femminile abbondante alla prossima pillo